Siamo in compagnia di Daniela Punziano, presidente dell'Associazione Le Ninfe, che torna quest'anno per la terza edizione con il concorso Il nostro personaggio in scena. Daniela, per chi ancora non lo conoscesse, di cosa si tratta? Allora, intanto direi siamo giunti finalmente un po' in ritardo quest'anno, ma ci siamo arrivati. Quindi terza edizione di Il nostro personaggio in scena. Che cos'è? È un concorso per attori, per scrittori, che si devono cimentare nell'inventare, nello scrivere e nel interpretare un monologo. Un monologo in prima persona, un monologo inedito. Lo possono scrivere in italiano, in napoletano, stile comico, stile tragico. Il concorso si apre a due categorie? Sì, da quest'anno abbiamo inserito una nuova categoria, quindi oltre alla categoria senior, quindi dai 13 anni senza limiti di età, abbiamo aggiunto la categoria junior, dai 6 ai 12 anni. Per chi volesse partecipare, come puoi iscriversi? Allora, come fare ad iscriversi? Bisogna andare sulle pagine Facebook Associazione Culturale Nymf e Il nostro personaggio in scena, terza edizione, scaricare il bando di concorso e il modulo di iscrizione. Il modulo di iscrizione va compilato e insieme al modulo di iscrizione deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica for you.perte.chiocciolalibero.it anche una breve biografia. Dopo questa fase ci sarà la fase di preselezione alla quale parteciperanno tutti gli iscritti? Sì, il giorno 17, sabato 17 febbraio alle ore 16.30 presso i locali dell'Associazione Culturale Nymf si terranno queste selezioni. La giuria sarà composta dalla dottoressa ostetrica Bianca Lamboglia, dal direttore del laboratorio di recitazione dell'Associazione Culturale Nymf e Vincenzo Manco e da me, la maestra Danila Ponziano. Ricordiamo anche che c'è un termine per le iscrizioni. Certo, il termine ultimo è il 10 febbraio. In seguito poi ci saranno la fase finale che si terrà invece all'Arcadia il giorno 23 febbraio alle ore 20.30. Che cosa si farà in questa fase finale? Verranno decretati i primi tre classificati della categoria junior e della categoria senior e il pubblico alla fine deciderà chi far vincere come primo classificato assoluto. I giudici questa volta saranno diversi, a parte Vincenzo Manco, attore e regista che già nominavamo nella fase delle selezioni. Ci sarà anche la dottoressa e assistente sociale Ida Floridia, ci sarà l'attore e modello Fabiano Canonico e l'attrice Maria Pinto. In tutto questo è doveroso ringraziare comunque tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto. Ringraziamo anticipatamente anche gli ospiti della serata finale, che sono Vincenzo Manco, la cantante e chitarrista Ilaria Silvestri e la cantante Anna Coppola. E un altro doveroso, doveroso, doverosissimo forse ringraziamento va anche al Comune di Quarto, che quest'anno ci ha concesso il gratuito patrocino morale. E cos'altro ancora? Iscriviti! È breve, manca poco. Il 10 di febbraio è l'ultimo termine, quest'anno potresti essere tu.